Angelo Vaccarezza, oggi il via alle vaccinazioni nel nuovo centro vaccinale della Valmaremola, un bel esempio per la comunità. La regione Liguria è stata la prima regione d'Italia a firmare tramite l'ISA un protocollo di accordo con le farmacie, però qui a Tovo si è fatto molto di più, la disponibilità della farmacia ma la disponibilità dell'amministrazione, quella di Tovo, quella di Giustenici e quella di Magliolo, di trovare un luogo adatto, disponibile a pochi metri dalla farmacia. Un servizio ulteriore in un momento di crisi, complimenti a tutti perché questa è una grande sinergia.